Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Durante la trasmissione Da noi a ruota libera su Rai 1, condotta da Francesca Fialdini, Giovanotti ha parlato della sua speciale amicizia con Alberto Brandi, un veterinario molto amato dagli animali. Il cantante ha rivelato che c'è stato un periodo in cui Brandi era più spesso a casa sua che alla sua, sottolineando così l'intensità del legame tra di loro. Durante il talk su Rai 1, Giovanotti ha sorpreso il pubblico con un videomessaggio in cui ha descritto Alberto come un amico di famiglia molto caro. Brandi si occupa spesso di animali randaggi, cani e gatti smarriti che vengono da loro per ricevere le migliori cure. Giovanotti ha sottolineato che Alberto è davvero un amante degli animali e ha evidenziato quanto sia meraviglioso il rapporto che si può instaurare con loro, arricchendo la vita e rendendo le giornate più belle. La testimonianza di Giovanotti ha suscitato interesse e emozione nel pubblico, che ha potuto apprezzare la profondità e la sincerità dell'amicizia tra il cantante e il veterinario. La condivisione di questo legame speciale ha fatto riflettere sul valore delle relazioni umane e sull'importanza di prendersi cura degli animali, che possono portare gioia e serenità nella vita di ognuno di noi. In conclusione, Giovanotti ha voluto rendere omaggio all'amico Alberto Brandi, evidenziando la sua dedizione di un amore per gli animali che hanno contribuito per essere legati.